La cocaina partiva da Amsterdam e arrivava nel Salento con tiri modificati ad hoc per un trasporto sicuro. Un ingente traffico di droga stroncato dai poliziotti della squadra mobile di Lecce insieme ai colleghi di Brindisi, Taranto, Roma e Napoli e dagli uomini della Direzione Investigativa Antimafia di Lecce. 26 le persone arrestate, 11 domiciliari e 15 in carcere su richiesta della procura di Lecce e disposti dal GIP Cinzia Vergine. I mezzi pesanti, autoarticolati, venivano modificati con la realizzazione di doppi fondi per l'occultamento dello stupefacente. Un sistema criminale col quartier generale nel sud Salento ma con ramificazioni in tutta Italia e anche oltre per la gestione di ingenti quantitativi di cocaina provenienti dal Brasile e diretti in Olanda. I poliziotti hanno poi scovato alcuni appartamenti ad Amsterdam dove l'organizzazione criminale organizzava i carichi. Nel fascicolo dell'operazione Skipper sono confluite le intercettazioni telefoniche e ambientali e le transazioni bancarie eseguite dal gruppo disposto dal giudice un sequestro preventivo di beni pari a 4 milioni di euro.